Scusatemi veramente, a me è una cosa che mi fa andare via di testa, questa cosa dell'interesse pubblico, vabbè è una roba, sono 48 ore che mi si sfracella il cervello sull'interesse pubblico. Allora, dice Salvini, e ora dicono anche i 5 Stelle, con voto certificato e autografato da Messer Casaleggio, che i disperati alla deriva del caso Diciotti sono rimasti lì per giorni in mare, o lo dicono loro per interesse pubblico. La votazione della Giunta del Senato decide proprio questo, Salvini ha agito nell'interesse pubblico del popolo italiano? E' questa la domanda, adesso lasciate perdere tutte le domande che avete letto in giro, queste domande strane, la domanda vera è questa. E se sì, si deve chiedere la Giunta, l'ha fatto seguendo la Costituzione e la dignità delle persone coinvolte? Sì, ciao. Ora, sappiamo bene che qui ognuno di noi ha la sua risposta, e valgono tutte, io non voglio innescare la polemica, si sa benissimo quale sia la nostra, noi sappiamo benissimo quale sia la vostra, vostra intenzia come la parte che ha votato Matteo Salvini. Ma non è questo il discorso, il discorso è un attimo, per favore. A me continua a sfuggire un punto. Ma dove cazzo è? L'interesse pubblico? La rifaccio dai, senza parolaccia. A me continua a sfuggire un punto. Quale sia l'interesse pubblico? Su quella nave c'erano davvero terroristi? E allora, perché piuttosto che cuocerle come sardine al sole sotto il sale, dico per diversi giorni Salvini, non ha fatto intervenire immediatamente le forze dell'ordine? Dico, è il suo ministero che può farlo, ogni tanto magari lui si dimentica, per far salire le forze dell'ordine, identificare, cercare di capire se in mezzo a quelle persone, quelle donne, quei bambini, quei disperati, magari ci fosse qualche criminale. Nessuno gli avrebbe mai contestato di non aver fatto scendere qualche pericoloso criminale. Nessuno. Sbaglio. Oppure quella nave è stata fermata perché sono chiusi i porti, come ditta Salvini. E allora, se sono chiusi i porti, ma perché gli sbarchi continuano? Punto primo. E soprattutto, se sono chiusi i porti, ma perché Salvini e Toninelli non si prendono la briga di firmare un documento ufficiale in cui ci dicono che i porti italiani sono chiusi e in cui abbiano il coraggio una volta per tutte di fare carta straccia di tutti i diritti e le convenzioni internazionali. Ma lo facciano sul serio, però. Dico, vuoi fare il duro, vuoi fare il cazzuto, vuoi fare l'eroe? E fallo, però. Altri mi dicono, Salvini ha fermato quella nave perché l'aveva promesso in campagna elettorale. Ma stiamo scherzando? Ma che cazzo c'entra? Ma a cosa c'entra l'interesse pubblico? Che tra l'altro ha un concetto così alto, così denso rispetto alla retorica, alla propaganda di una campagna elettorale. Se io nella prossima campagna elettorale prometto di verniciare tutti gli elefanti di rosa e prometto di insegnare a tutti gli elefanti di volare e mettiamo anche che venissi votato, cosa non stranissima di questi tempi, allora sarebbe interesse pubblico e avrei il diritto di spendere milioni di euro in vernice a corsi di volo. Dai, per favore, non scherziamo. Dai. L'interesse pubblico non c'entra nulla con quella che Sabino Cassese descrive perfettamente come la dittatura della maggioranza. L'interesse pubblico è qualcosa di più alto, di più denso, forse fin troppo. Per Salvini e Di Maio. Come giustamente faceva notare Emanuele Fiano, lo cito, pari pari, l'interesse pubblico non è che coincida con l'interesse della maggioranza parlamentare. Il fulcro della democrazia è che l'interesse pubblico prescinda dalla maggioranza. Allora, se oggi per Salvini è l'interesse pubblico trattenere quelle persone a bordo e domani arriva un'altra maggioranza di un altro colore che invece decide di fare scendere le persone, cosa succede? Immediatamente a quel punto cos'è? L'interesse pubblico cambia? No, non è così facile. A me addirittura mette spavento la definizione di interesse pubblico. Per interesse pubblico in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità o collettività di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento considerato come unità. Pluralità, collettività, comunità, unità. Buon mercoledì.